L'omaggio è stato anche dell'ambasciatore americano in Italia John Phillips, arrivato tra imponenti misure di sicurezza per ricordare i buoni rapporti tra gli Stati Uniti e Israele. A Trani appuntamento con la storia per la comunità ebraica, l'antica sinagoga di scuola nuova restituita al suo splendore originale. Si celebra la settimana di arte e cultura, l'Ekleka spiegano dalla frase scritta nella Torah e che il Signore disse ad Abramo, significa vai, vattene dalla tua terra, va verso te stesso. Siamo un popolo che è in cammino, anche se qualche volta qualcuno ha cercato di interrompere questo cammino, ma come accade nella storia di Purim, vediamo che alla fine non ci è riuscito. La storia di Purim in modo particolare ci ricorda che il pericolo che corre l'umanità, non soltanto agli ebrei, ma l'umanità, che il cammino dell'uomo possa essere in qualche modo interrotto è un pericolo reale. L'ebreo tende ad andare a sud, al contrario delle migrazioni storiche dove si va a nord, l'ebreo ama i sud del mondo e quindi il sud dell'Italia appartiene agli ebrei.